Partiamo da te Linda, parliamo di infrastrutture. Nella scorsa consigliatura tu sei stato assessore e hai fatto un lavoro importantissimo anche con la redazione del PUMS, che è il piano della mobilità sostenibile e diciamo è sotto gli occhi di tutti il lavoro che avete fatto per quanto riguarda l'aumento delle piste ciclabili, la flotta degli autobus, il car sharing e così via. Ora sicuramente cambiare nel corso di due, tre, cinque, ma anche io direi dieci anni, le abitudini dei romani non è una cosa semplice, però sicuramente è stata data un'inversione di rotta. Raccontaci un po' quello che avete fatto, anche le difficoltà che avete trovato, ma anche le soddisfazioni. Grazie Carmela, buongiorno a tutti, bentrovati. Mi fa piacere che ci sia questa mattinata di confronto su temi molto importanti come anche questo dei trasporti. I trasporti penso che sia la sfida più importante che dobbiamo affrontare a Roma, anzi una delle più importanti, mettiamola così, però sicuramente ha un ruolo chiave per garantire ai cittadini, ma anche a chi vive la città occasionalmente col turismo o per motivi di lavoro, di potersi muovere, di avere dei standard di qualità. Tutto sostanzialmente passa attraverso le infrastrutture e la mobilità, perché tutti i servizi che sono a essi collegati, che sia il commercio, che appunto che sia il turismo, che sia anche i servizi che riguardano la mappatura della città, passano attraverso le infrastrutture. E noi questo ce l'avevamo molto chiaro all'epoca, trovendo nel 2016 una città che aveva tante problematiche sotto il profilo dei trasporti, sia di servizio sia anche di mantenimento, rinnovamento e ampliamento delle infrastrutture esistenti e da realizzare. Quindi come prima cosa ci siamo detti, serve una programmazione seria, di lungo respiro, che guardi sia al breve ma anche a lungo termine, che quindi dia una mappa su come la città deve muoversi da qui ai prossimi dieci anni. E quindi è nato così il PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Un piano che ci ha richiesto una mole di lavoro incredibile, ma che è stata anche un'occasione importante per confrontarci nella città. Abbiamo fatto una proposta di piano che riguardava diversi ambiti, il trasporto pubblico locale, la sharing mobility, la mobilità sostenibile, la pedonalità, ma anche la mobilità a piedi, insomma percorsi anche pedonali, sicurezza stradale, anche questo tema sicuramente molto 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 importante per la città di Roma. Avete visto purtroppo tutti, sentite quotidianamente quello che succede sulle nostre strade drammaticamente. E quindi ci siamo messi a lavoro con uno schema di piano che poi abbiamo portato in consultazione in tutti i municipi. Abbiamo fatto due volte un incontro per parlare del PUMS su tutti e 15 i municipi e alcuni di voi lo sanno molto bene, insomma vedo degli amici qui anche in platea che hanno partecipato attivamente a questo momento di confronto. Quindi il PUMS è stato programmazione, è stato coinvolgimento dei cittadini, associazioni, portatori di interesse, tutti coloro che avrebbero voluto dare un contributo l'hanno potuto fare in questo contesto. Abbiamo chiuso questo piano che era molto 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 corposo, un piano che poi è stato sottoposto a tutte le approvazioni anche per quanto riguarda le valutazioni di impatto ambientale da parte della regione e Lazio perché insomma questi sono piani di programmazione che poi devono avere tutto un percorso anche amministrativo che non è stato semplice, però insomma ce l'abbiamo fatta. Quindi abbiamo chiuso questa proposta di PUMS, abbiamo adottato quindi il PUMS ad agosto del 2019. E in realtà la soddisfazione per questo lavoro è stata quella di aver lasciato un piano anche l'amministrazione di oggi che fortunatamente lo sta portando almeno fino a questo momento avanti per quello che è stato lasciato da noi. Quindi non ci sono modifiche sostanziali nonostante gli annunci di cancellazione di funivie, ma in realtà a livello formale questo non è stato ancora fatto. Quindi abbiamo consegnato alla città poi, perché è quello che ci interessa, e anche alla nuova amministrazione un piano che aveva anche dei progetti già sviluppati, alcuni già finanziati e che fortunatamente stanno andando avanti e anche con poteri commissariali che sono stati conferiti dal governo a specifici commissari che in realtà avevamo già introdotto noi per alcune opere stanno andando avanti. Quindi quando sentite parlare del tram ad esempio Termini Vaticano Aurelio, su cui in realtà c'è stato anche un ampissimo dibattito sapete che c'è stata un'avversione, anche una campagna di comunicazione fortissima contro questo tram che invece è uno strumento di spostamento importantissimo. Se pensate anche al tram di Viale Palmeo Togliatti al tram che connetterà la stazione di Burtina a Piazzale Verano, alle due funivie che ancora oggi ci sono finanziate quelle su Magliana e quella di Casalotti che per quanto denigrata è ancora lì e la potete anche trovare ancora nel bilancio del Comune di Roma. Quindi ci sono tante altre progettazioni lasciate che riguardano anche le Quadrant Est. Insomma c'è un'eredità importante, finanziata che si sta portando avanti e quindi per noi questa è una fonte di grandissima soddisfazione perché al di là poi di tutto c'è stato un lavoro concreto e serio e anche sul fronte della mobilità sostenibile perché siamo andati anche avanti coraggiosamente per certe attività e parlo delle piste ciclabili, ne citavamo prima quella di Ostia che è stata oggetto diciamo di grandi dibattiti qui sul litorale e non solo ma anche di tante altre infrastrutture transitorie che spero insomma a breve diverranno poi definitive con tutti gli accorgimenti tecnici del caso che abbiamo sviluppato in città anche col periodo del Covid. 130 km di rete ciclabili per gestire l'emergenza e spero insomma che adesso sebbene fino ad oggi non sia stato fatto un metro di nuovi piste ciclabili speriamo insomma che l'eredità lasciata poi possa essere adesso da stimolo anche in vista degli appuntamenti del Giubileo e di tutti gli altri appuntamenti eventi che abbiamo su Roma possa essere anche una modalità di spostamento cioè l'integrazione è quello che ci serve. Penso che abbiamo fatto un lavoro lasciato alla città che sta dando i suoi frutti e questa è la soddisfazione più grande per noi. Grazie Linda. Antonio De Santis quindi praticamente Gualtieri sta vivendo di rendita sostanzialmente che cosa c'è di nuovo che sta facendo? Sta vivendo di rendita poi una cosa che tenevo a dire ma anche richiamando quello che diceva Giuliana prima a Ostia noi stiamo parlando molto dei servizi di quello che poi viene fuori che si vede ma ad Ostia riuscire ad erogare questi servizi rispetto agli altri municipi è ancora più complicato per un motivo molto semplice dal punto di vista della macchina amministrativa lo dico da ex assessore al personale è veramente complicato ovunque per motivi di natura finanziaria sul personale per vari motivi ma ad Ostia ancora di più perché anche spostare banalmente dei dipendenti ad Ostia rispetto per lo più risiedono a Roma è veramente difficile quindi Giuliana ricorderà quante volte mi chiamava per dire mi mandi un tecnico riuscite a mandarmi un geometra cioè anche delle figure specifiche che però è davvero complicato anche se su 23 mila dipendenti potrebbe sembrare assurdo però diventa molto complicato perché poi si inseriscono i sindacati anche perché poi quando riesci a creare a fare anche dei trasferimenti subentra un aspetto che è quello della persona che lavora ad Ostia magari non volendolo fare per cui cominciano anche degli effetti diversi rispetto alla motivazione quanto piuttosto magari anche alle assenze quindi riuscire a programmare e avere delle idee è meritorio dopodiché trasferire anche in concreto in un municipio come quello di Ostia le volontà di indirizzo politico è esponenzialmente più complicato quindi quando prima Giuliana raccontava l'episodio dei bagnini ad esempio è una vicenda che ricordo che conosco e voi non potete immaginare quanto sia diciamo veramente lo ripeto meritorio in un ambiente in un clima come quello essere riusciti a far impiegare quelle persone come giardinieri nel momento in cui erano dei bagnini che per sei mesi non lavoravano e noi abbiamo fatto poi voi in modo particolare in municipio avete fatto se ho deviato un po' dalla domanda ma penso che ci ritorno avete fatto un lavoro da questo punto di vista molto coraggioso e io dico che politicamente è un paradosso ma addirittura questo tipo di approccio è stato pagato in termini politici però la verità è e questo va dato atto a tutti noi in generale ma in modo particolare anche a quello che è stato fatto qui il modo coerente di affrontare di portare avanti delle cose di produrre e di produrre risultati perché questo significa provare ad introdurre anche un cambio di natura culturale che magari nel breve periodo non necessariamente dà i suoi frutti però nel medio lungo periodo sicuramente li può dare ora quello che serve anche dal punto di vista che stavo descrivendo è anche un interesse a livello nazionale su queste vicende e su queste questioni perché molti dei problemi che abbiamo trattato ma non ultimo anche quello a cui ho fatto cenno io può sbloccarsi e può risolversi solo attraverso delle misure di carattere nazionale che consentano di spendere di più sulla macchina amministrativa, di rimodernare il municipio, di rimodernare le strutture stesse quindi questo insomma grosso modo ci tenevo tanto a dirlo che il coefficiente di difficoltà che hanno affrontato è stato altissimo e lo si vede anche, questo lo dico da cittadino, ai miei occhi rispetto a quanto si vede oggi banalmente io che amo fare qualche passeggiata di tanto in tanto ad Ostia mi rendo assolutamente conto di alcuni dettagli particolari che erano stati curati e che oggi mi sembra non siano curati allo stesso modo Grazie mille, Giuliano Pacetti, con te vorrei affrontare due punti il primo, l'Inda ci ha parlato del grande lavoro che è stato fatto a Roma ma per colmare un gap infrastrutturale così grande penso che non servano interventi a compartimenti stagni nel senso che come dire fatti dal singolo sindaco, dalla singola città serve magari una rete di interventi perché benvenga tutto quello che viene fatto a Roma ma se non ci sono poi i collegamenti con le realtà limitrofe si crea comunque un problema e l'altra cosa, noi sappiamo che le infrastrutture servono per cosa? per dare servizi ai cittadini ma per creare anche economia, per creare anche lo sviluppo economico quindi sono due fari che in qualche modo non vanno persi di vista e quindi questo è il perno centrale non basta dire riempirsi la bocca di aver fatto un'infrastruttura se poi quell'infrastruttura non è utile, cioè ci sono infrastrutture utili e infrastrutture che non lo sono Condivido, condivido Carmela Prima di rispondere alla domanda intanto volevo anch'io ringraziare Giuliana e tutta la sua squadra per come hanno amministrato questo municipio negli anni precedenti perché nonostante abbiano iniziato con quasi due anni di ritardo visto che hanno votato successivamente poiché il municipio era commissariato sono riusciti a raggiungere dei risultati incredibili ma soprattutto hanno avuto una capacità amministrativa di riuscire a spendere quasi dalla totalità dei fondi messi a disposizione dal comune per un'amministrazione riuscire a spendere il 97-98% dei fondi messi a disposizione è qualcosa di inimmaginabile neanche le strutture centrali di Roma Capitale sono riuscite in questi anni e probabilmente mai ad avere quegli impegni di spesa e mi faceva piacere riconoscerli perché hanno fatto veramente un lavoro importante ritornando diciamo alla domanda che mi avevi fatto Carmela ho letto in questi ultimi giorni un rapporto di lega ambiente pendolari a 2024 in cui poi c'è anche un focus sulle aree urbane e mette a confronto le infrastrutture che ci sono a Roma o a Milano con quelle che ci sono in altre zone anche città, capitali europee vi leggo solo dei dati per farvi capire quanto siamo indietro Londra 470 km di metro Madrid 291 Barcellona 148 Parigi 225 Milano 103 Roma soli 60 km è sempre più urgente che quanto è previsto nel PUMS di cui parlava Linda il piano urbano della mobilità sostenibile elaborato dalla nostra amministrazione sia messo a terra il prima possibile perché viviamo di un gap infrastrutturale che va a pregiudicare la libertà di spostamento in modo come dire anche senza utilizzare il mezzo pubblico che impatta con la vita dei cittadini se vogliamo veramente guardare a un futuro verde un futuro in cui ci siamo in inquinamento bisogna il prima possibile mettere a terra queste opere ma ciò che fa pensare è una delle opere la chiusura dell'anello ferroviario per dire di Roma che era stata finanziata col PNRR nella modifica della scorsa estate fatta dal governo Meloni lo ha difinanziato dai 265 milioni che erano previsti nel PNRR l'ha portato di circa 100 milioni a 175 milioni questo vuol dire che il progetto si ferma si ferma perché non ci sono i fondi per poterlo fare quindi bisognerà attendere ancora un po' affinché ci siano quei fondi per poter andare avanti un'altra infrastruttura fondamentale che tra le altre cose avevamo cominciato durante la nostra amministrazione con la progettazione il nodo Pigneto anche quello terzo bando di gara che è andato deserto quindi vuol dire che minimo avrà 8-10 anni di ritardo quest'altra infrastruttura tornando invece al territorio nel rapporto pendolaria fondamentalmente viene certificato per l'ennesima volta che la Metro Mare e la Roma Nord sono tra le due peggiori ferrovie a livello italiano io penso che anche del mondo in livello italiano sicuramente del mondo Metro Mare abbiamo sentito la politica tutta parlare ormai da anni sono 5-6-7 anni di questo treno ogni 6 minuti beh è ora che lo raggiungiamo questo obiettivo ci sono questi 425 milioni che vanno messi a terra il prima possibile per poter realizzare quest'opera e rendere quell'infrastruttura che è fondamentale perché collega Ostia e il suo introterra alla città e è necessario è necessario far sì che questa infrastruttura sia migliorata nel più breve tempo possibile contemporaneamente però non possiamo aspettare se ci vuole tempo affinché queste opere vengono fatte diciamo che l'amministrazione regionale può anche intanto pensare a mettere ulteriori due treni per far sì che i tempi di attesa si riducano e soprattutto che vengano anche manutenute le stazioni perché fino a qualche mese fa tra Vitinia e Colombo il 50% degli impianti di traslazione non erano funzionanti un impianto di traslazione che non è funzionante vuol dire che un cittadino che ha delle difficoltà di deambulazione non può prendere il mezzo pubblico è una cosa vergognosa nel 2023 2024 Prima Carmela dicevi di guardare al di là sì perché secondo me poi il litorale il litorale secondo me va visto nel suo complesso litorale romano quindi un litorale che va da Civitavecchia e arriva fino alla parte sud del Lazio quasi a considerarlo un litorale unico a livello regionale Roma Latina esattamente Roma Latina adesso sembra dicono col commissario che partiranno i lavori nel 2025 è una vergogna è un progetto vecchio non ha più senso è un progetto che va a sventrare un territorio che va a insistere all'interno di tre riserve naturali che va a far chiudere delle attività economiche legate all'agricoltura è qualcosa veramente di impensabile soprattutto perché il problema si potrebbe risolvere con due semplici modi uno mettendo in sicurezza la pontina come abbiamo sempre sostenuto Adriano è stato un portabandiera di tutto questo facendo anche la terza corsia quella di sicurezza e di emergenza Roma e Terracina dall'altra rafforzando quello che è il trasporto pubblico di Cotral ma soprattutto pensando a una metropolitana leggera di superficie che possa in qualche maniera congiungere Pomezia a Roma e far sì che i pendolari non si imbottillino sulla pontina nelle loro scatole di acciaio di ferro con le loro macchinette rimangono lì fermi per ore ma si può andare anche oltre perché per dire possiamo anche parlare delle infrastrutture portuali infatti noi abbiamo due snodi importantissimi che sono Fiumicino e Civitavecchia abbiamo due snodi importantissimi che sono Fiumicino e Civitavecchia che vanno ad impattare anche con le attività economiche delle stesse città perché dico questo perché c'è la brocettualità di questo nuovo porto turistico a Fiumicino per far attraccare le navi da crociera al di là che è qualcosa di impensabile da un punto di vista ingegneristico perché vari studi fatti dai comitati hanno messo in luce come ci siano delle difficoltà a far sì che il pescaggio per far arrivare quelle navi regga nel tempo perché sono navi enormi ma andrebbe secondo me a distruggere le attività economiche di Fiumicino ma soprattutto a far sì che quella città sia ancora più inquinata perché oltre all'aeroporto avrà anche un porto per le navi turistiche è qualcosa che porterà pochissimo al territorio per il semplice fatto che sarà un sistema chiuso quello portuale quindi le attività economiche del territorio non ne beneficeranno di nulla e andrà soprattutto ad impattare con quella che è l'economia ormai da anni di Civitavecchia noi non possiamo pensare che ogni comune non consideri anche tutto ciò che è circostante i sistemi economici e l'ecosistema diciamo di una regione va ragionando tutti insieme pensare che non incida un nuovo porto di navi da crociera su Fiumicino su quello che è Pomezia su quello che è Civitavecchia poiché gran parte di quelle navi si sposteranno sul porto di Fiumicino è qualcosa di assurdo andremo veramente a desertificare o comunque a chiare problemi al sistema economico di Civitavecchia non so io credo che bisogna in qualche maniera un po' lottare tutti affinché quest'opera non veda luce anche competizioni anche a competizioni a livello europeo visto che c'è una commissione poi apposita che le può valutare grazie grazie Giuliano Adriano Zuccalà consigliere regionale Giuliano Pacetti ha parlato del tasto dolente per questo territorio che è la metromare tocca a te il tasto dolente i lavori dovevano iniziare a inizio marzo poi è stato comunicato che sono stati rinviati sembra che inizieranno a fine marzo ma c'è sempre un punto interrogativo tu hai presentato anche un'interrogazione in Regione Lazio all'Aggiunta per conoscere il cronoprogramma esatto dei lavori e soprattutto nel frattempo quando arriveranno i nuovi treni sì la metromare è un po' la nostra circunvesuviana proprio passa così devo dire sì in collaborazione chiaramente con i rappresentanti del municipio in particolare ci siamo sentiti con Alessandro abbiamo elaborato questa interrogazione un po' per mettere nero su bianco quelle che sono le intenzioni dell'amministrazione regionale rispetto alla metromare però mi piace partire dal concetto generale che c'è dietro la mobilità come hanno fatto egregiamente sia Linda che Giuliano allora la mobilità ha due strade paradossalmente parlando di mobilità o mette al centro la persona e le comunità o mette al centro i mezzi e il mezzo singolo le due cose non possono essere intermedie perché altrimenti non funziona né una né l'altra allora o noi decidiamo di avere una mobilità che metta al centro la qualità di vita delle persone oppure riempiamo le strade di auto e la mobilità pubblica il trasporto pubblico locale non funziona e questo è un po' il paradosso che ci troviamo a vivere perché in questa congiunzione astrale in cui siamo governati praticamente a ogni livello dalla destra e questo l'hanno testimoniato più e più volte in consiglio regionale attraverso i nostri atti o meglio alle risposte ai nostri atti il loro concetto di mobilità è quello di 50-60 anni fa dove è l'auto al centro dell'interesse delle amministrazioni e non la persona l'hanno dimostrato con la Roma Latina quando noi abbiamo chiesto di non intervenire più non proseguire più in quel progetto che è vecchio di 30 anni in audizione in commissione regionale l'ingegner Mallamo che è stato adesso nominato commissario ha detto che ha solo due piccoli problemi uno dal lato della cisterna Valmontone e uno dal lato di Roma adesso al lato di Roma il problema non è particolarmente grande nel senso non sa come entrare a Roma cioè praticamente il problema per andare dalla Latina a Roma è come entrare a Roma e lui ha questo piccolo problema che ancora non ha risolto però comincerà i lavori poi si vedrà nel momento in cui arriviamo lì magari la lasciamo così fai un salto arrivi all'Eur questo capite che è la follia si nominano i commissari quando non si sa ancora dopo decenni non dopo qualche anno dopo qualche mese dopo decenni qual è il problema delle persone che circolano sulla pontina chiaramente la soluzione è quella che diceva Giuliano prima mettere in sicurezza la pontina che già con l'intervento di Anas rispetto ad Astral che veniva gestita prima era un colabrodo assolutamente adesso si sta iniziando la messa in sicurezza per quanto a rilento proprio perché è stata frenata perché serve la necessità come altri casi di avere il problema per porre la soluzione della grande opera la grande opera è sempre la soluzione ma la grande opera è la soluzione infinita che non si raggiungerà mai proprio perché è una grande opera mentre alle persone servono le soluzioni immediate ecco che arriviamo al concetto di mobilità allora la metromare la Roma Lido è lo dice il nome stesso la metro per il mare ma si ferma ad Ostia quindi il più grande bacino di persone che si riversa sulle spiagge ovvero Roma del nostro litorale perché poi Roma si divide dal sud a nord come sappiamo bene quindi va verso Santa Marinella appunto Civitavecchia Pomezia Ardea Nettuno Anzio e via discorrendo quando prendono la metro da Roma arrivano a Ostia e si ritrovano nel nulla praticamente perché non esiste la famosa intermodalità cioè non sanno come da Ostia ad esempio andare verso sud o andare verso nord ed è questo che dovrebbe essere il principio cardine di un'amministrazione che guarda un po' più dall'alto rispetto al municipio rispetto ai comuni quella regionale ovvero che cosa vogliamo fare della mobilità nel prossimo futuro nei prossimi 20-30 anni quello che servirebbe ad esempio è si potenziare la Roma Lido che tra l'altro gli stanziamenti che sono stati portati avanti adesso anche attraverso l'FSC sono per adeguare la Roma Lido cioè per adeguare la Metromare non per renderlo un servizio essenziale e rivoluzionario rispetto a quello che è un concetto di mobilità evoluto cioè stiamo dicendo che invece di andare con gli asinelli a portare le persone sulla ferrovia dobbiamo cominciare a metterci una locomotiva a vapore per dire il salto quantico che loro riescono a fare nelle loro mentalità mentre invece noi dovremmo cercare di togliere appunto le auto dai parcheggi prima si parlava dei parcheggi lungo tutta la via litoranea ormai noi dobbiamo cercare di capire che le auto non devono stare più in mezzo alla strada ormai il futuro si sta delineando il trasporto di massa deve essere pubblico il trasporto puntuale deve essere in sharing perché è molto più comodo noi ci dobbiamo spostare in tanti con un mezzo e raggiungere il famoso ultimo miglio con magari mezzi in sharing senza avere per forza la proprietà dell'auto che ci costringe a spese costanti durante l'anno eccetera eccetera e quindi se noi però non diamo la possibilità alle persone di farlo questo ovvero offrendo dei servizi pubblici che siano adeguati alle nostre esigenze perché tutti ci svegliamo andiamo in ufficio la mattina dobbiamo andare a prendere i figli dobbiamo spostarci dobbiamo fare la spesa se noi non diamo dei mezzi pubblici adeguati a questa necessità non riusciamo mai a fare il salto quante volte noi andiamo all'estero ritorniamo ah che bello si gira con la bicicletta ad Amsterdam a Londra ci sono chilometri di metro poi torni qua gli fai una pista ciclabile sul litorale eccezionale ah e dove parcheggio la macchina ma scusa ma sei tornato adesso ad Amsterdam se la sei fatta tutta in bicicletta ma fatti pure ostia perché non si riesce a fare questo passaggio e io ho apprezzato tantissimo poi con Giuliana abbiamo condiviso anche una parte di amministrazione soprattutto quella del covid come diceva prima per le spiagge ricordiamo c'erano i droni che attaccavano le persone quando giravano sulla spiaggia no scherzo è stato molto complicato sicuramente però anche dare la possibilità alle persone di muoversi in maniera diversa è stato importante in quel periodo chiaramente e di fare attività sportiva su un valore che noi abbiamo inestimabile che è quello del litorale allora se noi riusciamo anche attraverso i fondi da stanziare nella metromare ma a creare un concetto diverso veramente di quello che è il trasporto su ferro che deve affiancare e collegare meglio dei poli essenziali come quello industriale di Pomezia come quello agricolo di Ardea ma Anzio e Nettuno già sono salta proprio il Lazio salta Pomezia e Ardea lo salta poi Anzio e Nettuno hanno decine di stazioni tant'è che si sviluppano molto a livello estivo perché è facilissimo raggiungerle con il treno Pomezia e Ardea vengono saltate però se noi riusciamo a collegare bene magari lato mare e riuscire a estendere il turismo creare un sistema vedere tutto in maniera interconnessa per il fabbisogno sia economico perché si sviluppano attività sia delle persone perché c'è la comodità di muoversi all'interno dei mezzi pubblici noi riusciamo a fare un salto di qualità per quella che è la mobilità delle persone purtroppo ripeto in regione non c'è questa visione al governo non c'è questa visione perché si pensa sbagliando completamente e dando corda come nel caso delle concessioni eccetera eccetera a piccoli interessi economici che magari ti hanno sostenuto durante la campagna elettorale per via delle promesse piuttosto che ai grandi interessi delle persone per la loro qualità di vita e si pensa che dando ragione a 3, 4, 5 imprenditori si riesca a raggiungere chissà quale obiettivo e poi ci ritroviamo così dopo 30 anni ancora a parlare della Roma latina che non viene realizzata ancora a parlare della metromare che gira a carbone e non riusciamo a vedere la luce rispetto a quella che è veramente una visione di mobilità all'interno della nostra regione e di infrastrutture quindi io spero veramente che un giorno qualcuno venga fulminato sulla via di Damasco e capisca che la strada non è questa ma si cerchi di andare in un'altra direzione grazie grazie Adriano continuiamo a parlare di infrastrutture Alessandro Lieva c'è un progetto nel cosiddetto ponte di Dragona se e quando dovesse essere realizzato questo progetto come cambierebbe il volto di questo di questo territorio quali vantaggi riesci a illustrarcelo nei tempi previsti senza andare oltre no immagino perché è un progetto importante lo dico in questo senso parliamo a meno di Ferrara va bene te lo concedo e quindi ci possiamo anche stare insomma innanzitutto desidero ringraziare ognuno di voi per essere qui questa mattina sarà un momento un po' di di incontro e condivisione anche l'organizzazione è stata secondo me importante perché bisogna cominciare con l'Inda già si sta mettendo in campo un ragionamento su tutti i municipi per organizzare questi momenti di incontro appunto perché un percorso nuovo ci attende e credo che va fatto va fatto insieme allora proprio venendo alla domanda io vi faccio vedere alcune slide ma velocissimamente perché se vedete questo è il centro di Roma tutta una serie di ponti di ponti storici sono circa 30 37 che collegano le due sponde del Tevere e quindi c'è anche un modo agevole per attraversare il Tevere poi se vedete praticamente sparisce Roma o sia manco considerata tra virgolette perché l'ultimo ponte è quello di Mezzocammino se pensate che è l'altezza del Gra e per arrivare all'ultimo tratto che è quello del ponte della Scafa quindi immaginate dal Mezzocammino al ponte della Scafa abbiamo 14 chilometri 14 chilometri mentre gli altri di Roma variano tra un chilometro due chilometri o a volte anche meno e viene tagliato completamente fuori sia la parte dell'entroterra soprattutto del decimo municipio anche del nono municipio perché per arrivare adesso io ho portato anche qualche esempio se ricorderete nel 2018 come amministrazione di Pillo avevamo condiviso un ordine del giorno proprio per stimolare la ripartenza sul nuovo ponte della Scafa e comunque ragionare sul nuovo ponte di Dragona perché poi con Linda mi ricordo d'urgenza dovevamo rivedere completamente la viabilità perché ecco queste sono immagini dove c'è la chiusura del ponte della Scafa dove chiaramente ha messo in ginocchio sia Fiumicino che Ostia che comunque tutta la parte urbanizzata di Ostia perché poi comunque la parte chiaramente di Fiumicino con l'aeroporto con le attività commerciali con il settore terziario quindi immaginate che chi lavora ad Ostia quindi l'ospedale Grassi per esempio perché il Fiumicino viene servito come ospedale dal Grassi quindi immaginate anche l'urgenza allora ci fu praticamente un intervento sul ponte della Scafa vennero tolte parliamo di 2018 600 tonnellate di asfalto e la limitazione al transito sui veicoli superiori 7 tonnellate e mezza chiaramente solo inizialmente per i mezzi di soccorso o a piedi addirittura quindi tutta la viabilità interna a Fiumicino era stata cambiata quindi col sindaco Montino allora poi con con Linda che allora era assessore della mobilità prima ancora che lavori pubblici giusto quindi si era rivisto tutto il percorso legato al trasporto pubblico non è stato veramente complicato quel periodo vedete questo è il ponte appunto della Scafa poi arriverò a quello di Dragona perché ha un senso questo questo è l'attuale ponte della Scafa e cosa succede? succede che comunque è un progetto del 2002 con un accordo tra Regione e Comune di Roma che ha previsto appunto la realizzazione di questo nuovo ponte che però ha anche visto tra il 2008 se non erro fino al 2018 2009 2018 9 anni 9 anni di analisi sondaggi archeologici conferenze di servizi e tutto quanto per poi arrivare nel 2002 a una conferenza di servizi che è stata bocciata e riadeguata da risorse per Roma e adesso ci siamo sostanzialmente questo è quello che diventerà il nuovo ponte della Scafa e l'aspetto principale quindi è più alto non è anche vero quando si diceva è più alto perché devono passare le navi non è assolutamente vero perché il ponte quell'altro attuale il ponte della Scafa resterà a servizio comunque della viabilità ciclopedonalità e l'aspetto più grosso è questo quello che cambia è tutta la complanare tutto l'attraversamento del ponte per arrivare a una viabilità che su collega Cineland via del mare questo è il lato Ostia questo è il lato fiumicino quindi immaginate come verrà rivisto questa parte di territorio quindi era necessario perché adesso inizieranno anche i lavori sul viadotto del ponte della Scafa credo che verrà abbattuto in gran parte rivisto rifatto quindi immaginate ancora di servizi difficoltà di spostamento tra i cittadini di Ossia e fiumicino senza la possibilità di avere nell'entroterra un'alternativa che abbiamo sempre condiviso da questo punto di vista mi dispiace adesso che non si vede su questa slide perché è molto chiara perché stiamo parlando di un progetto che è stato finanziato dal Comune di Roma quindi arrivo al nuovo ponte della Scafa e sì il nuovo ponte di Dragona perdonatemi è stato finanziato la progettazione attenzione la progettazione per eliminare con un accordo credo nel 2004 se non erro sì perché poi con l'Inda abbiamo fatto tutto un recupero di informazioni erano solo cartacee tra accesso agli atti adesso oggi abbiamo questo famoso progetto del nuovo ponte di Dragona quindi chiaramente consegnato 2006-2007 da Risorse per Roma all'ora Dipartimento di Urbanizzazione oggi Simu insomma e quindi è chiaro che questo vedete questo è lo svincolo in basso a destra che sarà il ponte che collega la Portuense anche la Magliana la Roma Fiumicino quindi creare questa possibilità di collegare le due sponde per poi arrivare dalla parte dell'entroterra c'è presente i ponti di Dragona via Lecerz e Le Normand la parte della Macchiarella erroneamente si dice ponte di Dragona ma in realtà la viabilità parte sì dalla zona industriale non proprio nel centro abitato quindi passa da dietro per poi arrivare all'altezza di Dragona quindi sono previste anche degli interventi per quanto riguarda lato fiumicino tutte rotonde piuttosto che su lato entroterra sulla via del mare tutta una rivisitazione legata alla viabilità quindi con nuove rotonde è chiaro che questo poi comporta aiuta da questo punto di vista sia l'economia ne abbiamo parlato prima voglio riallarciarmi a quello che ha detto stai parlando più di Ferrara no non credo perché Ferrara è intervenuto più volte io vado in chiusura adesso io vado in chiusura poi non intervengo più salvo domande chiaramente sempre a disposizione a questo punto di vista Antonio ha detto una cosa ha detto che il personale difficilmente veniva ad Ostia e uno dei motivi è proprio il collegamento che vincolava questa cosa e noi abbiamo la Roma Lido quella che è abbiamo via del mare Romagnoli Ostianza e Colombo queste sono le uniche alternative se non attraverso comunque l'utilizzo dell'automobile ma come mezzi di trasporto nulla quindi il nuovo Ponte di Corona è fondamentale per uno sviluppo economico e per riavvicinare Ostia l'entroterra a Roma perché oggi molti spesso dicono vado a Ostia oppure da Ostia vado a Roma il concetto è proprio questo è la distanza che non collega questa parte del territorio al centro di Roma quindi io ho concluso perché non entro nel merito del progetto della parte tecnica però ci tenevo a fare questo ragionamento un po' più ampio sul discorso di chi mi ha anticipato sulla necessità del collegamento della viabilità della ciclo pedaneità perché sul Ponte di La Carona verrà vista questa parte più la metropolitana leggera è questo un ragionamento che va considerato quindi io qui mi fermo vi ringrazio e poi chiaramente questo a disposizione anche per altre cose grazie Alessandro grazie a tutti grazie a tutti